Ciao a tutti, parliamo di Fujifilm, Canon, Full Frame, un po' di cose. Prima di cominciare, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella, mettere un like al video, condividerlo, cose molto importanti per la crescita del canale. Se dovete fare un acquisto su Amazon, utilizzare il link che trovate sotto in descrizione, il primo link che trovate esattamente qua sotto, mi supporterà col canale. Ci sono anche i link Telegram di offerte, sempre su Amazon. Ultimo, non per ultimo, i miei canali Instagram, date un'occhiata, è tutto in descrizione. Il video di ieri, a caldo, della presentazione della Canon EOS R5 e della Canon EOS R6, ha suscitato qualche commento, diciamo, da parte di iscritti, da parte di amici e colleghi che mi hanno whatsappato, da parte di qualcuno anche che mi ha scritto su Instagram dicendomi, ma con tutta quella enfasi, allora stai per tornare a Canon, abbandoni Fujifilm? Allora, mi è venuto in mente a questo punto di fare un video non di puntualizzazione, ma un pochino più esplicativo, allargando anche gli argomenti ad altre questioni legate sempre a Fujifilm e anche Canon. Dunque, questo canale non è mai stato un canale espressamente dedicato a Fujifilm. Questo l'ho sempre sottolineato, perché non sono un fanboy, quindi non sono uno che necessariamente guarda un solo brand e ne tesse le lodi e tutto il resto non conta. Come fanno gli ambassador? Ma gli ambassador trasversalmente di ogni brand. Voi prendete un ambassador qualunque, che possa essere di Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, difficilmente troverete un ambassador che parla di un altro brand, che ne parli bene o male, o che parli male del brand di cui è ambassador. Quindi, io non sono ovviamente un ambassador e non credo neanche che lo sarò mai, ma questo è un canale che parla di fotografia. Poi il fatto che io sia un fotografo che utilizza sostanzialmente strumenti Fujifilm non mi vincola comunque al parlare di altre cose, anche con una certa enfasi. Puntualizzato questo, cosa voglio dire? Io non mi freno nel momento in cui trovo qualcosa di entusiasmante, che mi piace o che attira particolarmente l'attenzione, anche nel momento in cui riguarda un brand che ho lasciato per un altro. In questo caso, Canon e Fujifilm. La presentazione di ieri mi è piaciuta molto. Secondo me è un tipo di presentazione che, nei limiti di una presentazione di attrezzature fotocamere, dovrebbe essere preso da esempio da parte di altri produttori. Perché? Perché fa leva non tanto sulle caratteristiche del fotocamere stesse, ma fa leva su quello che queste fotocamere ti danno la possibilità di fare. Quindi quello appunto che ho detto ieri sul pathos. Cosa che invece non viene fatta, lo dico sinceramente, con Fujifilm. Fujifilm, nelle sue presentazioni, parla praticamente solo di tecnica, solo delle qualità tecnologiche che ci sono all'interno della propria fotocamera. Cosa che ovviamente è sicuramente, sicuramente una cosa, una discriminante, un valore che fa leva sulla scelta di una determinata fotocamera da parte di un acquirente. Ma che comunque mette in secondo piano quella che è poi in realtà la capacità creativa effettivamente di un fotografo. Cosa che non è stata fatta ieri con la presentazione di Canon. Ciò non vuol dire assolutamente che io abbia intenzione di acquistare una EOS R5, EOS R6. Ma minimamente. A riguardo la Canon EOS R5, R6, perché bisogna assolutamente parlarne e perché bisogna tenerele presente? Perché Canon è più di ogni altro leader nel settore. Ok? È sempre stata leader di vendita e di innovazione tecnologica nel segmento fotografico. Con questa Canon EOS R5 e R6 loro si riprendono, vogliono quantomeno riprendersi, una fetta di mercato che hanno lasciato ad altri. Quindi queste Canon sono effettivamente un gran concentrato di tecnologia con delle novità, delle caratteristiche che tutti gli altri devono andare in qualche modo a raggiungere o quantomeno a tendere. Questo vale per tutti. Vale anche per Sony, con la sua Sony A9, bellissima fotocamera di cui potrei parlarvi ancora adesso e che mi piacerebbe davvero provare. E qualcuno poi potrebbe dirmi, ma allora vuoi passare a Sony? No, al momento no, assolutamente non voglio passare a Sony. Quindi Canon EOS R5 e R6 sono delle fotocamere decisamente di riferimento. Questo è quanto meno quello che penso io. Va da sé che abbiamo visto una presentazione ovviamente orientata a enfatizzare quelle che sono le caratteristiche di questa fotocamera. Bisogna poi aver in mano la fotocamera, provarla e non intendo dire provarla da parte di chi l'ha già avuta in mano e quindi in qualche modo non ha fatto una prova oggettiva perché sicuramente qualche difetto ci sarà. Su questo si può mettere in dubbio, ci mancherebbe assolutamente. Ma Canon da questo punto di vista ha fatto un ottimo lavoro, sicuramente non si può negare. D'altro canto devo dire una cosa, io perché sono passato da Canon a Fujifilm? Perché Canon si era ampiamente seduta sugli allori, cioè non sopportava alla fine le fotocamere, voleva solo vendere, ne sparava fuori una ogni 3x2, magari non della serie professional, va bene, però si interessava soltanto vendere reflex, a questo punto direi di far fuori anche un magazzino di reflex. E l'innovazione tecnologica non c'era perché una delle critiche che veniva sollevata a Canon era appunto la mancanza di innovazione, quindi io ho preso e sono passato difficilmente, con molta fatica, a Fujifilm e ne sono contento. Ora, non è che in maniera così semplice a cuore leggero torno in Canon, cioè non è che Canon si raccava con un paio di fotocamere ben piazzate, perché io ripeto, la EOS R e l'ARP sono state più dei test per vedere come reagiva il mercato. Non è che te la cavi così e quindi io prendo e ripasso a Canon come se niente fosse, perché Fujifilm al momento mi sta dando tutto quello che io voglio, quello che mi necessita, con un prezzo, devo dire, abbastanza adeguato, tutto sommato, benché abbia sollevato delle critiche a riguardo delle cifre, comunque, per esempio dell'XT4, piuttosto dell'X-Pro 3 e altre cose che comunque, voglio dire, non risparmiano nemmeno a Fujifilm, cioè le critiche non ci sono. E a breve penso che farò uscire anche un video delle cose che non mi piacciono di Fujifilm, perché non esiste un produttore perfetto, per l'amore del cielo, quindi anche i Fujifilm, secondo me, ha dei difetti. Niente, ovviamente, che mi faccia rinunciare al momento alle sue fotocamere, assolutamente, ripeto, l'XT3 che ho è una fotocamera veramente meravigliosa, le ottiche sono splendide, la compattezza comunque di queste fotocamere me le fa essere veramente trasportabili, cioè qualcosa che non mi fa assolutamente rimpiangere la fatica che facevo con Canon, quindi, ma i difetti comunque, secondo me, ci sono, ma questo ne parlerò assolutamente in un altro video. Quindi, io non mi sento comunque di criticare un qualcosa che poi, onestamente, mi sembra che sia riuscito veramente bene. Queste due fotocamere, R5 e R6, mi sembrano delle fotocamere riuscite veramente bene. Collocate ad un prezzo abbastanza alto. Ieri, mentre registravo il video, non c'erano ancora i prezzi ufficiali, e si parla di 4.700 euro per la R5. R6, non l'R5, scusate, con i numeri faccio un po' di confusione, anche perché Canon è inversa a Nikon, cioè il numero più basso è la fotocamera più di fascia alta, invece con Nikon è il contrario, quindi si fa un pochino di confusione, anche con Fujifilm abbiamo un po' delle... insomma, con i numeri non riesco mai a collocare le fasce alte e le basse, mentre con Fujifilm abbiamo un cambio comunque di nome, XE, XT, eccetera, invece con Canon abbiamo soltanto i numeri, e quindi un po' di confusione ci sta. Quindi la R5 è al momento una fotocamera di punta. Come ho detto io, ma a quanto parla non dicono tutti, comunque l'R5 rimanda molto anche esteticamente alla Canon 5D. La Canon 5D, se prendete una Canon 5D Mark IV, costa un bel, adesso vado a mente, un bel migliaio di euro, se non di più, in meno rispetto alla Canon EOS R5. Dunque, è un prezzo alto, è un prezzo alto, e è una fotocamera che sì, viene definita come professionale, cioè dedicata ai professionisti, ma non vuol dire che l'acquisteranno solo i professionisti. definire un qualcosa di professionale significa anche stimolare chi vuole avvicinarsi alla professionalità, non che sia, non che significa essere più bravi di altri, questo l'ho sempre ripetuto, essere un fotografo professionista vuol dire guadagnare con la fotografia, non significa essere più bravi di alcune fotografie amatori, assolutamente. Però, essere un professionista nell'immaginario collettivo è sinonimo di essere più bravi di altri. Quindi, chi ha determinate anche disponibilità, quando sente una fotocamera professionale, vuole acquistare qualcosa che sicuramente ha delle caratteristiche in più, che magari non utilizzerà, ma che comunque lo fanno sentire molto più in alto rispetto a un fotografo amatore. E quindi, il fatto che sia una fotocamera professionale non significa che sia destinata soltanto ai professionisti, ma questa è una logica di mercato che possiamo vedere sotto ogni punto di vista. La macchinetta del caffè, perché ce l'ho davanti in questo momento, la macchinetta del caffè professionale, è un qualcosa che ti fa pensare che tu, acquistando quella macchinetta del caffè, è come se acquistassi una macchinetta del bar. Ok? Quindi, se Canon, ma tutti gli altri brand, dovessero campare soltanto con le vendite ai professionisti, campacavallo sarebbero già belle che spacciate. Quindi, non è tanto, ma questo era, adesso ne avevo già parlato in un altro video, e c'erano alcune statistiche, appunto, che dicevano che chi dà di più, chi dà più soldi a questi grossi produttori non sono i professionisti, ma sono gli amatori, quelli che cambiano comunque le fotocamere, tutto sommato anche abbastanza spesso. Ora, mi chiedo, quanti effettivamente andranno a spendere 4.700 euro per una Simil 5D? Ok? Qualcuno potrà dire, sì, ma una 5D molto evoluta, per l'amore del cielo, ma se 4.700 euro costa un EOS R5, una R1, quando uscirà, e uscirà, perché uscirà un R1 con grip integrato, con delle caratteristiche infinitamente superiori rispetto alla R5, non uscirà adesso, non uscirà l'anno prossimo, ma uscirà, quanto costerà? 8.000 euro? 9.000 euro? Cioè, mi sembrano prezzi abbastanza elevati, qualcuno potrà dire, allora anche la GFX100 ha un prezzo elevato, ha un prezzo elevato, ma stiamo parlando comunque di una fotocamera con altre caratteristiche, comunque che ha un sensore, che è completamente diverso, e quindi una tecnologia anche che costa parecchio di più. Mi sembra che a questo punto si stia spostando anche la fascia media di prezzo abbastanza in là. Se la mia critica principale nei confronti di Fujifilm era quella probabilmente anche del prezzo, con la X-T4 siamo saliti un pochino di prezzo, anche se l'X-T4 adesso si trova già a prezzo un pochino sensibilmente più basso, sensibilmente più basso, va da sé che effettivamente le future full frame magari di Nikon, se uscirà con delle full frame, perché mi sembra che sia l'unica che al momento stia un po' dormendo, e con le serie Z non mi sembra che abbia fatto sto grande successo, beh, allora vedremo cosa succederà, perché evidentemente i prezzi si alzeranno un po' di più trasversalmente in tutte le fasce, quindi dal micro 4 terzi, che comunque ha delle fasce di prezzo abbastanza alte, APS-C, full frame e medio formato, vabbè, ma da chi è supportato. Quindi, ritorno all'argomento iniziale, io non ho intenzione di ritornare a Canon, assolutamente. Mi piacerebbe provarle? Ma assolutamente sì, ma come mi piacerebbe provare tantissimo una Sony A9, ma mi piacerebbe veramente tanto provarla, per capire quali sono le differenze, per vedere anche cosa mi piace di una fotocamera del genere e cosa invece mi piace magari di una Fujifilm. Ricordiamoci che delle Fujifilm io ho sempre osannato la compattezza, che non è assolutamente una cosa da trascurare, ma minimamente, cioè io vado in giro con un corredo, con una borsetta piccolina, con dentro un sacco di cose, cosa che non mi potrei permettere, né con una Sony, né con una Canon, e soprattutto le ultime Canon, con delle lenti che, è probabile che le lenti che sono uscite ieri, sono delle lenti meravigliose, fantastiche, ma ingombranti. Qualcuno potrà dire, ok, ma un 600 mm così compatto, dove lo trovi? Non parliamo di 600 mm, parliamo piuttosto del 24-105mm f4, che ci già da un po', ok? Però ci sono delle caratteristiche, che comunque poi vanno a discapito, ovviamente, di altre caratteristiche. La compattezza di Fujifilm, al momento, è una cosa che non lascerei per nessun motivo. Poi ho sempre detto che non sono sposato con Fujifilm, quindi potrei lasciare tranquillamente un Fujifilm, da un momento all'altro. L'ho fatto per il video, per il video l'ho fatto da un momento all'altro. Avevo una Fujifilm X-A5, con cui c'erano delle limitazioni, soprattutto per fare le live, che al momento, tra l'altro, non sto facendo e che ricomincerò a fare, e che invece una Lumix vecchia di 5 anni, che ho pagato veramente pochissimo, assolutamente mi dà. Quindi, tant'è che comunque Panasonic mi ha sorpreso con dei menu fantastici, non magari intuibilissimi, ci mancherebbe, però comunque molto navigabili, anche come esperienza utente, sicuramente ottimi, e mi sembrano ottimi anche quelli dell'R5 e dell'R6, e con una fotocamera, comunque quella Lumix G80 che sto utilizzando, vecchia, perché è vecchissima. Quindi, sotto quel punto di vista, è ovvio che se avessi una Fujifilm, una X-T4, potrei ribaltare il display e utilizzarla al posto della Lumix, però a me piace tenere, io ve lo dico, la mia Lumix G80 li fissa, cioè non la stacco, non la uso peraltro, non sono uno di quelli, non amo prendere un set, spostarlo, agganciarlo, rimettere le cose insieme. Ogni tanto vedete che l'inclinazione della fotocamera, dell'inquadratura, va un po' a quel paese, semplicemente perché di notte passa il robottino, tocca dentro il treppiedi e si sposta, magari non ci faccio caso, comincio a registrare ed ecco che la fotocamera è fuori bolla. al di là di questa divagazione. Altre domande che comunque sono relative a Fujifilm, Canon, eccetera. XH1, XH2, scusate, uscirà a full frame? No, non uscirà, secondo me, non uscirà assolutamente full frame, per diversi motivi. Allora, primo, beh, non ci sono le ottiche, le ottiche non ci sono, e trovo difficile, non impossibile, ma difficile pensare, che Fujifilm abbia in cantiere una serie di ottiche full frame. Fujifilm è una grossa azienda, ma non così grossa, tanto da investire così tante risorse e permettersi un eventuale fallimento. Cosa significa? Che Fujifilm non è Canon, diciamocelo proprio tranquillamente, la R5 e la R6 sono uscite anche così, perché c'è dietro un'azienda leader come Canon, Fujifilm, dal canto suo. Parliamo sempre di allocazione ai vari segmenti, allocazione di Fujifilm al segmento fotocamere, perché poi di per sé Fujifilm è una multinazionale molto grande, che opera nel settore medicale e che ha tanti investimenti lì, quindi parliamo sempre di Fujifilm fotografia. Quindi non ce la vedo mettersi in competizione con un segmento fotografico come quello full frame, che oggi come oggi, insomma, non è semplice, non è semplice, ovviamente in fasce di prezzo più alte, perché se un X-T4 costa 2.000 euro, adesso siamo intorno ai 1.600-1.700 più o meno, si riesce a trovare, anche non di importazione ufficiale, diciamocelo. Quanto costa una full frame? 2.500-3.000? Ti vai a scontrare comunque con gli altri produttori che hanno comunque a catalogo, se escludiamo Nikon, che hanno comunque a catalogo diverse ottiche. Quindi non vedo una Fujifilm che mi esce con una full frame X-H2 con una serie di ottiche pazzesche. Non è impossibile, comunque non è impossibile, ma hanno dichiarato più volte che non sono interessati al full frame. È vero, però per chi segue Fujifilm già dai tempi della X-Pro1 o della X-T1, Fujifilm ha anche dichiarato che 16 megapixel erano più che abbastanza per le proprie fotocamere. Quindi ha raccontato una cosa non vera, perché poco dopo sono usciti con delle fotocamere da 20 e 8 megapixel. Quindi, confidiamo sicuramente in quello che Fujifilm può dichiarare, però, come dico sempre, ci possono ripensare da un momento all'altro. Discorso diverso sui megapixel, ok? Quindi sul fatto che un X-H2 possa avere qualcosa tipo 40 milioni di pixel e 50 milioni di pixel. Anche quello lo vedo molto molto difficile, perché le ottiche di Fujifilm su la PSC, quindi le XC, XF, hanno una risoluzione, non ricordo, ho provato a cercare, ma non sono riuscito a trovare l'articolo, hanno una risoluzione di circa 26-28 milioni di pixel. Cioè, ogni ottica riesce a definire il numero di pixel, quindi acquisire un'immagine con una densità che è limite. Il limite delle ottiche Fujifilm, e non ricordo se sono comprese anche le ultime F2, quindi 23, 35 e 50 mm F2, i 16 mm F2.8 che sono le ultimissime uscite, che si hanno, oltre anche gli zoom, eccetera, se hanno una risoluzione maggiore. So che le precedenti ottiche sicuramente hanno una risoluzione che arrivava a 26-28 milioni di pixel, quindi è difficile che Fujifilm vada oltre, cioè che vada a produrre un sensore, o meglio, a utilizzare un sensore che non sia supportato dalle proprie lenti. Molto, molto, molto difficile. A meno che le ultime ottiche, effettivamente, abbiano una risoluzione talmente alta che, che comunque si può, possa in qualche modo Fujifilm utilizzare un sensore con 30-40 milioni di pixel. Ma la vedo difficile, se qualcuno ha qualche informazione di più, postatemela qua sotto, io non trovo più il link dove avevo letto appunto i test di risoluzione. Tenete presente anche un'altra cosa. Fujifilm sotto questo punto di vista è quadrata. APS-C serie X una cosa, serie GFX un'altra. Quindi, 50 milioni di pixel in su, GFX. Sotto c'è la serie X. Quindi, è molto settoriale. Quindi, come non vedremo una GFX probabilmente economica da 30 milioni di pixel che costa magari 2500 euro, così probabilmente non vedremo una XH2 con chissà quanti milioni di miliardi di pixel. Non credo difficile. Fujifilm sì, una delle critiche che comunque sono state sollevate anche all'uscita dell'X4 è comunque l'utilizzo di un sensore tutto sommato vecchiotto. Vecchiotto nel senso che non è un sensore nuovo. Comunque ci si aspetta un sensore diverso o qualcosa di più che dia una maggiore gamma dinamica cosa che comunque è stata fatta con l'EOS R5 e R6 benché la mossa del 40 e 8 milioni di pixel per l'RC R6 R5 continuo a confondermi 20 milioni sulla R6 mi sembra veramente un grossissimo freno a mano cioè chi vuole comprare un R6 deve contare che ha solo 20 milioni solo tra virgolette 20 milioni di pixel quindi il crop e tutto quello che ne consegue quindi Fujifilm dal canto suo ha utilizzato un sensore che tra virgolette si è già visto stabilizzato va bene un ottimo sensore ok ma vendere una fotocamera a prezzo così alto e non cambiare gli sensore ma mettergli soltanto soltanto tra virgolette ci mancherebbe una stabilizzazione con tutto che comunque l'XT4 è un'ottima ottimissima fantastica fotocamera per chi passa da un X-T1 un X-T2 a un X-T4 non c'è niente da dire cioè il passaggio è veramente netto da un X-T3 a un X-T4 non lo so io in effetti non ho neanche mai valutato sinceramente il passaggio e sono sincero forse forse la stabilizzazione fino a un certo punto il display potrebbe essere già un pochino più comodo nell'ottica di tenere un X-T3 e un X-T4 però vabbè questi sono altri discorsi opinioni personali e ripeto quindi non è che dovete mettermi in croce è un mio pensiero ecco questa escalation di prezzi mi lascia un pochino mi lascia un pochino perplesso cioè se da qui a tre anni esce una X-T5 cosa mi costa? 2.500 euro 2.600 euro non credo che il costo della vita salga così tanto gli stipendi o la capacità produttiva salga così tanto in proporzione e poi come ho anche risposto ad alcuni commenti secondo me sia Fujifilm ma che altri produttori come anche Canon sparano alto sul prezzo per poi scendere man mano quindi lo scoglio della cifra troppo alta viene superata viene superato nel momento in cui ci sono gli sconti cioè l'X-T4 è uscita a 2.100 2.200 se non ricordo precisamente troppo alto nel momento in cui si aspetta qualche mese ed è passato alla fine solo qualche mese si trova già a diverse centinaia di euro in meno ecco che allora uno pensa già di più all'affare cioè accidenti prima costava così tanto adesso costa di meno scatta l'affare cioè acquisto perché il prezzo è decisamente più vantaggioso rispetto al prezzo originale quindi c'è da contare anche che certe aziende ragionano con questi termini cioè appena immetto la fotocamera sul mercato non ne vendo così tante le venderò quando raggiungeremo quando il mercato comunque offrirà al pubblico lo stesso prodotto con una cifra diciamo un pochino più bassa che poi è l'obiettivo che si pone il produttore un po' come trattare il prezzo cioè mi chiedete un preventivo vi sparo X però il mio obiettivo finale è avere la cifra di X meno il 10% 20% 30% quindi più o meno siamo in quell'odio discorso del venerdì quindi ho voluto chiarire un pochino di cose ribadisco quello che ho detto prima sono molto contento di Fujifilm quindi sono contento assolutamente di quello che che sta facendo ma dovrà sempre comunque fare assolutamente meglio cosa cambierà effettivamente i miei Fujifilm X-T3 sono sincero probabilmente per una serie GFX quindi si rimarrà sempre comunque in Fujifilm però ripeto le GFX sono troppo costose costose non nel senso che costano troppo ma ovviamente si parla comunque di caratteristiche completamente diverse quindi anche fasci di prezzo completamente diverse quindi non c'è assolutamente nulla nulla da dire sul prezzo anche sulla X-T100 sulla GFX 100 ecco il prezzo è alto ma probabilmente è anche abbastanza giustificato tanto più che la GFX 100 se non ho visto male si trova a 10.000 euro appunto cioè non si trova a 8.000 non si trova a 9.000 si trova a 10.000 euro magari con una manciata di euro di euro in meno mi piacerebbe tutto qua ecco ma non ho assolutamente al momento intenzione di cambiare integrare magari sì magari mi piacerebbe anche acquistare qualche altra cosa o provare qualche altra fotocamera magari qualche altra compatta non mi posso per esempio nascondere che mi piacerebbe anche provare una una ultima una delle ultime Hasselblad anche se parliamo comunque di fotocamere al di fuori di un normale per quanto normale si possa parlare l'utilizzo anche le Leica non mi dispiacerebbe comunque provarle e soprattutto gli obiettivi Leica tanto decantati non tanto le fotocamere quanto effettivamente gli obiettivi ma amando la fotografia non posso non posso nascondervi che mi piacerebbe sperimentare praticamente qualunque cosa di attrezzatura ciò non toglie che attualmente sono soddisfatto con le mie fuji film spero di aver chiarito la mia posizione ragazzi siamo arrivati alla fine anche oggi video lungo vi prometto che almeno ci proverò che i video saranno un pochino più contenuti anche perché come dicevo all'inizio non so in quanti arrivano effettivamente alla fine so che dopo un po' uno smette anche se il video è troppo lungo o lo trovo anche noioso capita interrompe lì se siete arrivati in fondo al video mettetemelo sotto scrivetemelo almeno a un minimo di riscontro e se siete arrivati in fondo voglio anche ringraziare tutti quelli che comunque mi scrivono mi commentano sotto che è il modo più efficace comunque il commento sotto il video anche se qualcuno ogni tanto mi scappa purtroppo youtube studio non è il massimo della vita quindi a volte qualche commento mi scappa non rispondo teoricamente li leggo tutti perché mi arriva la notifica notifiche sull'iphone ma quando vado a riprendere su youtube studio non vedo immediatamente il commento quindi è un po' un po' un casino comunque ringrazio tutti quelli che mi hanno commentato sono davvero molto contento quando qualcuno mi scrive mi ringrazia che mi segue che mi segue anche da tanto che trova interessante i miei video è uno stimolo è uno stimolo anche quando comunque ricevo non dico delle critiche ma qualcuno che mi corregge in qualche modo o che mi dice dove effettivamente ho sbagliato come ad esempio ieri che ho confuso il sistema RF con RP me ne ero accorto capita ci mancherebbe ieri sono andato molto molto a braccio perché veramente l'evento era finito quindi è finito da poco quindi mi sono messo subito a fare a fare il video dunque come al solito vi invito a iscrivervi al canale ovviamente se siete arrivati fin qui attivare la campanella mettere like al video anche se non vi è piaciuto dai mettetemi un like condividere anche il video è cosa molto molto importante per crescere il canale se dovete fare acquisti su Amazon utilizzate il link che trovate sotto mi supporterete col canale non pensate che diventi ricco assolutamente ma proprio ma proprio zero ma proprio niente date un'occhiata anche ai canali Telegram di offerte tutto in descrizione quindi aprite la descrizione e dateci un'occhiata perdeteci qualche minuto ma troverete sicuramente qualcosa di interessante e date un'occhiata anche ai miei canali Instagram ci vediamo al prossimo video buon weekend non credo che uscirà un video nel weekend ma non si sa mai ciao a tutti